Amici della Nova TV, bentrovati alle tribune elettorali che la redazione giornalistica della Nova TV e della Nuova del Sud organizza per dare ai Lucani un'informazione plurale e completa su tutte le liste dei candidati in lizza per le prossime elezioni regionali del 24 marzo. Vi ricordo che oltre alla tribuna elettorale sono previsti poi anche i confronti tra i quattro schieramenti in corsa per Viale Verrastro, le interviste singole ai quattro candidati a governatore e il confronto finale tra di loro. Ma seguendo l'ordine sorteggiato dalla Commissione elettorale, oggi è la volta della lista Basilicata Prima riscatto con noi in studio Piero Lacorazza, il candidato prescelto da questa lista per poter partecipare a questo spazio. Benvenuto. Benvenuto, grazie a voi. Ricordo le regole del gioco, saranno otto le domande che faremo al candidato per rispondere alle quali avrà a disposizione 90 secondi oltre a un appello finale agli elettori di un minuto. Allora iniziamo con una breve presentazione della lista, soprattutto come nasce Basilicata Prima riscatto. Basilicata Prima nasce da circa 70-80 piazze che abbiamo promosso, le piazze del riscatto le abbiamo chiamate, da 18 mesi fa. Quando avvertivamo l'esigenza che si era interrotto il rapporto tra centro-sinistra, in particolare tra PD e comunità regionale, abbiamo promosso piazze del riscatto in cui abbiamo parlato di scuola, di lavoro, di infrastruttura, di ambiente, di petrolio, di università, di città, di spopolamento. Cioè abbiamo promosso queste piazze e poi ci siamo anche messi in movimento con un camper. Abbiamo girato la regione Basilicata a bordo di un camper, raccolto idee, critiche, rabbia e tutto questo è confluito in questa lista fatta di donne e di uomini di grande qualità, di grande passione e di grande competenza. Allora adesso partiamo con le domande vere e proprie. Da un minuto e mezzo, lo ricordiamo, ci sarà il timer in sovrimpressione. Iniziamo subito con un giudizio sulla legislatura che si è appena conclusa. Ma è stata una legislatura luce ed ombre e abbiamo fatto alcune scelte, io credo, importanti, positive, altre invece sbagliate. Io credo che sia stata una legislatura sbagliata soprattutto per le posizioni che la regione ha assunto e il centro-sinistra ha avuto. Per esempio sull'articolo 38 dello Sblocchitalia, come ricorderà, la regione Basilicata ha guidato dieci regioni per dire al governo nazionale che era un governo tra l'altro targato PD. Qui lo voglio dire, Basilicata prima è una lista, è un progetto politico che ha indossato prima la casacca di Lucani e poi la casacca di Partito. Noi con quel referendum abbiamo protetto, difeso la Basilicata perché a casa nostra decidiamo anche noi e poi credo siano stati errori sulla legge di riordino della sanità che come sanno non ho votato e ho fatto una proposta alternativa che è parte del programma che abbiamo consegnato al candidato Tre Rotola e poi credo che sia stata sbagliata l'idea del piano dei trasporti, anche quella che non ho sostenuto. Poi ci sono state cose anche positive, lo statuto, il nuovo statuto della regione, la legge elettorale, la mia prima firma alle leggi che hanno tagliato le indennità dei consiglieri regionali e i vitalizzi dei consiglieri regionali che li percepiscono, non i 5 stelle, ma la mia prima firma c'è in calcio a queste leggi ed è credo il protagonismo di Basilicata prima. Allora vediamoli proprio nel dettaglio questi argomenti, passiamo alla sanità che è sicuramente uno dei temi più scottanti di questa campagna elettorale. Che cosa c'è da salvare secondo lei e che cosa invece cambierebbe? Ma innanzitutto c'è stata un'idea sbagliata di come al cittadino è stata offerta la legge di riordino della sanità che va cambiata, va modificata, va fatto un nuovo piano sanitario perché i cittadini hanno percepito che la discussione fosse più di come una sanità si organizza, quanti aziende sanitarie, invece ai cittadini bisognava dire come attraverso un nuovo piano sanitario, attraverso una legge di riordino come ai cittadini si raccontava, si dimostrava di abbattere le liste d'attesa perché non è possibile ancora che un cittadino possa in qualche modo attendere un anno per una visita e magari con lo stesso medico in intramenia 100-150 euro a pagamento andare a una nostra visita. Il PD, il centrosinistra, ha perso anche il suo popolo perché le politiche pubbliche come quelle sanitarie in qualche modo non hanno corrisposto a quella esigenza di giustizia sociale, di efficienza che secondo me viene sottolineata più spesso. In sanità c'è bisogno di un nuovo piano, cambiare la legge di riordino perché così come è stata fatta non va bene e poi c'è bisogno di avere deroghe per l'assunzione del personale in sanità. C'è un personale sanitario che è molto stressato da molti turni e abbiamo la necessità di favorire più personale in sanità. Questa è una delle ragioni per la quale io chiedo più autonomia regionale perché c'è bisogno di più personale sanità, più medici, più infermieri e più operatori sociosanitari e più medicina sul territorio, più sanità sul territorio. Benissimo, prossima domanda. Altro grande problema della Basilicata è il tema delle infrastrutture. Secondo lei quali sono le priorità e su quali invece bisognerebbe puntare di più? Noi abbiamo avanzato una proposta di un piano per un miliardo e mezzo di euro, un piano infrastrutturale. Ricordo che questa proposta non la tiriamo fuori adesso. Come Basilicata prima io sono stato sottoscrittore, promotore di una mozione già approvata in Consiglio regionale a febbraio nel 2017 in cui individuiamo le principali arterie su cui investire, le principali infrastrutture, un programma di manutenzione ordinaria e straordinario che serve in particolare per la viabilità provinciale che è una viabilità fondamentale per la nostra regione e abbiamo individuato anche le risorse. Per esempio noi abbiamo la necessità di collegamenti come la Murgia Pollino, abbiamo la necessità di collegamenti come la Potenza, Melfi, rafforzamento di una viabilità fondamentale, ma soprattutto della Salerno Potenza Bari. Questa regione deve avvicinarsi un po' di più al mezzogiorno. Abbiamo individuato le risorse, anche qui chiediamo più autonomia regionale perché diciamo allo Stato centrale devi pagare metà di questo piano infrastrutturale. Noi siamo la regione del petrolio, non è possibile che lo Stato, il Governo nazionale non metta la metà di queste risorse e un'altra metà di queste risorse possono essere investite dalla quota delle royalties che cresceranno nei prossimi anni per effetto dell'avvio di Total a Corleto e della quota di Ires, quindi che è una tassa un po' che sarà retrocessa alla Basilicata, una tassa che va allo Stato, che sarà retrocessa in Basilicata, il 30%, si può mettere anche parte di queste risorse per questo piano infrastrutturale. Altro argomento, questo è l'anno di Matera 2019, una grande opportunità per tutta la regione. Come può essere sfruttata e colta appieno? Diciamo che Matera 2019 non è un punto di arrivo, è un punto di partenza a questa locomotiva, per utilizzare anche una metafora per dire che vi era necessità di un collegamento migliore di questa città, a questa locomotiva noi dobbiamo agganciare adesso dei vagoni, avremmo dovuto farlo di più e meglio prima, ma possiamo ripartire agganciando dei vagoni e i vagoni che abbiamo individuato sono alcuni. Primo, abbiamo un grande patrimonio archeologico, musei, aree archeologiche diffuse per la regione. Abbiamo detto il primo vagone è Basilicata 2019 e scaviamo il futuro. Un grande investimento che peraltro è iniziato grazie anche alla nostra iniziativa sul nostro patrimonio archeologico. La rete dei parchi letterari e delle fondazioni culturali, se ci pensate, sono disseminate sul territorio. E poi un grande investimento sul turismo accessibile. Io vorrei che questa regione nei prossimi cinque anni fosse una regione totalmente accessibile, una regione in cui una persona con disabilità può muoversi con grande possibilità, senza barriere, senza barriere per andare a mare o senza barriere per visitare un museo. Ecco, il turismo accessibile è una grande carta che nei prossimi anni possiamo giocarci, non solo per dire che Matera è un luogo di valori, di riscoperta e di gerarchie ideali, differenti, ma anche perché una società inclusiva è anche una società che dà opportunità economica. In Europa sono circa 50 milioni i turisti con disabilità. Credo che questo è uno dei vagoni che dovremmo agganciare a Matera 2019. E poi c'è l'agricoltura, l'agriindustria, la qualità del nostro territorio, che credo è un prodotto che deve essere rafforzato e accompagnato a questa locomotiva. Altro tema caldissimo da sempre, sempre attuale, è la disoccupazione. Qual è la vostra ricetta per creare nuovo lavoro in Basilicata? Noi abbiamo bisogno di arrestare un'emorragia. Una delle ragioni per la quale noi chiediamo più autonomia regionale, che non è l'autonomia del Lombardo-Veneto. Non è un'Italia divisa a metà perché è un'Italia che deve salvarsi tutto insieme ed una nuova politica per il Sud non può spezzare l'Italia, così come vuole in qualche modo Salvini, i governatori della Lombardia o del Veneto. Ma noi serve più autonomia regionale perché abbiamo bisogno di avere nuovi parametri, diversi parametri. Le faccio un esempio. Da noi non può valere lo stesso parametro docente-studente che vale a Milano che vale in una grande città, perché noi abbiamo pochi numeri e abbiamo bisogno invece di avere una maggiore flessibilità normativa. Abbiamo bisogno di più insegnanti, perché dobbiamo mantenere le scuole nei nostri comuni e dare qualità alle nostre scuole. Più infermieri, più medici, più operatori sociosanitari, cioè il lavoro è anche un lavoro tra virgolette pubblico. E poi abbiamo anche detto che abbiamo bisogno di un investimento infrastrutturale importante, perché senza infrastrutture non c'è sviluppo e non c'è lavoro. E se mi potessi concentrare su una sola cosa, vorrei una regione open data, una regione in cui una impresa ha un'autorizzazione in sei mesi, perché ci sono anche imprese che vogliono investire, che vogliono realizzare fatti concreti e quindi creare lavoro, che non possono attendere due anni, tre anni per avere una autorizzazione. Sburocratizzazione e trasparenza devono essere le parole d'ordine per sostenere lo sviluppo e il lavoro. Un'altra domanda, un altro tema che si aggancia a questo è quello dei giovani che continuano a lasciare la Basilicata. Allora, quali sono le vostre proposte per trattenerli e soprattutto per arginare lo spopolamento? C'è bisogno di una terapia ad urto. Servono sicuramente incentivi, sostegni ai giovani, ma per la nuova occupazione. Ai giovani, ma anche coloro che giovani non sono più, perché questi incentivi per i giovani ci sono, ci sono anche politiche nazionali che sostengono l'occupazione giovanile. Vorrei anche sottolineare che c'è invece una gran parte di persone che è over 35, over 40, over 45, che corrono il rischio di essere espulsi per sempre dalle dinamiche produttive e del lavoro, mettendo in crisi le proprie famiglie e scivolando nelle sacche di povertà. Allora abbiamo bisogno di strumenti, di incentivazione, ma abbiamo bisogno per creare lavoro di sviluppo. Quando io dico sburocratizzazione, quando dico trasparenza, significa che in tutti i settori, dall'industria, per proteggere il lavoro che c'è, quindi occhio a quello che cade a FCA, a Mervi, quindi proteggere il lavoro che c'è, una regione che sia capace di fare in modo che nei prossimi mesi non si perda neanche un posto di lavoro di quelli che ci sono e crearne di altri attraverso strumenti di sburocratizzazione, di incentivo che vanno nei settori all'agricoltura, al turismo, all'industria, settori che dal mio punto di vista possono creare possibilità. E poi c'è bisogno di sostenere l'innovazione e il cambiamento delle imprese, perché più innovazione c'è nell'impresa, più laureati io riesco, specializzati ovviamente riesco ad assorbire. E poi c'è bisogno di riorganizzare davvero una filina dell'istruzione e della formazione. Altra domanda cruciale, le tematiche ambientali che da sempre ormai si intrecciano con le estrazioni, qual è la vostra idea sul futuro del petrolio in questa regione? Sul futuro del petrolio la nostra posizione è molto chiara. Siamo stati coloro che hanno guidato una battaglia referendaria, io ho anche pagato un prezzo politico, perché all'indomani del 17 aprile del 2016, guidando una battaglia referendaria che ha protetto la Basilicata, abbiamo messo insieme dieci regioni, un grande fatto politico e nazionale, io fui cacciato dalla presidenza del Consiglio regionale, perché evidentemente avevo toccato i fili dell'alta tensione. Quindi abbiamo protetto il nostro territorio, sul nostro territorio, grazie a quella battaglia, decidiamo noi, decidiamo anche noi. e il fatto che decidiamo anche noi è il miglior strumento per rispettare l'ambiente, perché se avessero deciso solo le compagnie petrolifere, lo Stato centrale, come si voleva con l'articolo 38 dello Sblocco Italia, non c'era protezione ambientale che tenesse. Quindi questa è stata la prima grande cosa che noi abbiamo fatto. E poi aggiungo, io vorrei un po' più di autonomia regionale, perché l'ambiente è in materia di competenza esclusiva dello Stato, quindi noi non possiamo legiferare, se non in accordo con lo Stato, avendo un po' più di autonomia, per proteggere le nostre matrici ambientali. Faccio un esempio concreto. La Regione Basilicata non può fare una legge per ridurre l'impatto delle emissioni in atmosfera, perché questa è materia esclusiva con lo Stato. Noi dobbiamo trattare con lo Stato, quindi, questa è l'autonomia che io vorrei, una legge che sia più rigorosa a protezioni delle nostre matrici ambientali, aria, acqua, suolo e sottosuolo. Credo che questa è una scelta che si può compiere e che dobbiamo necessariamente compiere. E poi noi abbiamo bisogno di una deroga per l'assunzione di personale su ARPAB. Non è possibile avere un ARPAB che assume personale attraverso agenzie interinale. Queste posizioni le ho assunte anche nel corso di questi cinque anni e le difenderò anche nei prossimi cinque. Siamo la Regione del Petrolio, abbiamo bisogno di concorsi veri, trasparenti, per assumere persone a tempo indeterminato in ARPAB. Perché se c'è la sicurezza del posto di lavoro di quella persona, riesce ad essere anche più autonomo nei controlli. Andiamo a chiudere. C'è l'appello finale agli elettori da parte di Piero Lacorazza, qui per Basilicata Prima. Riscatto. Un minuto a sua disposizione per convincere gli elettori. Io penso di poter chiedere un sostegno ai candidati di Basilicata Prima perché siamo stati quelli che in maniera più coerente e leale nel corso di questi anni hanno fatto delle battaglie, hanno difeso i Lucani e abbiamo costruito un programma che ha visto la partecipazione di tante persone. Il nostro programma lo trovate su www.basilicataprima.it www.basilicataprima.it C'è il nostro programma, le cose che vogliamo fare. Giudicateci in base a questo perché a destra c'è il trasformismo politico. A destra non c'è il cambiamento, c'è il trasformismo politico di persone che sono state assessori della Giunta Pitella e che oggi fanno liste a sostegno di Bardi. Ci sono candidati nella Lega, non si vota Salvini, si vota i candidati nella lista della Lega, ci sono candidati che provengono dalle file del PD che cinque anni fa ai gazebo hanno scelto Pitella e non la Corazza. Premiate la lealtà e la coerenza, scegliete Basilicata Prima. Benissimo, grazie anche per aver rispettato i tempi, grazie a Piero La Corazza e ai nostri telespettatori per averci seguito. Grazie. E io vi do appuntamento alle prossime tribune elettorali in vista dell'appuntamento con le elezioni regionali del 24 marzo e vi lascio alla programmazione della nostra rete. Grazie. 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 Grazie a tutti.